Per esigenze di lavoro o di vita, trasferire i dati di WhatsApp da Android a iPhone non è un'operazione rara. Ma per evitare di perdere definitivamente conversazioni, immagini e messaggi preziosi di gruppi legati al lavoro o ai gruppi. Questo video mostrerà due metodi rapidi per aiutarvi a ottenere un trasferimento sicuro dei messaggi WhatsApp. Andiamo! Ciao a tutti! Bentornati sul nostro canale. Metodo 1. Trasferire i dati WhatsApp con Passa iOS. Passa iOS è una soluzione ufficiale che può aiutarvi a completare il trasferimento dei dati di WhatsApp da Android a iPhone. Tuttavia, è importante notare che l'iPhone deve essere nuovo oppure già resettato. In buona sostanza, non è possibile trasferire le chat di WhatsApp su un iPhone già configurato. In primo luogo, è necessario collegare entrambi i telefoni alla stessa rete Wi-Fi. Aprire l'app Passa iOS e seguire le istruzioni a schermo. Inserire il codice visualizzato sullo schermo per trasferire i dati. Una volta terminato, inserite lo stesso numero di telefono sul vostro Android per effettuare l'accesso e completare la configurazione e potrete continuare con WhatsApp. Metodo 2. Trasferire i dati WhatsApp con iCareFone WhatsApp Transfer. Questo è un software professionale per trasferire i dati di WhatsApp da Android a iPhone o da iPhone ad Android. Fate clic sul link nell'area della descrizione sotto il video per scaricare e aprirlo. Utilizzare Android come connessione di origine e iPhone come connessione di destinazione. Abilitare il debug USB su Android e inserire il codice di accesso su iPhone. Clicca Trasferisci e poi Continua. Per prima cosa, è possibile eseguire un backup. Eseguire il backup di WhatsApp su Android e fare clic su Continua. Attendere il trasferimento dei dati. Verificare il vostro account WhatsApp su Android inserendo il vostro numero di cellulare e la password ricevuta. Su iPhone, effettua l'accesso a WhatsApp e poi clicca Accesso. Assicuratevi di avere spazio sufficiente. Disattivate Trova il mio iPhone e attendere che WhatsApp recuperi automaticamente le chat sul vostro iPhone. Una volta terminato, quando vedrete trasferimento riuscito, riavviate il vostro iPhone con WhatsApp che ha trasferito le vostre chat. Il telefono ha finito i messaggi di WhatsApp. Tutti i messaggi sono apparsi sull'iPhone e potete continuare a chattare. Se avete bisogno di trasferire messaggi WhatsApp e di fare il backup, vi consigliamo vivamente di usare iCareFone Transfer per completare le vostre esigenze in modo sicuro, veloce e completo. Questo è tutto per il video di oggi, ci vediamo la prossima volta. Ciao!